Il decreto IRPEF è legge via libera della Camera il provvedimento che conteneva gli 80 euro in più al mese in busta paga ma non solo quella misura? Sì, gli 80 euro ma non solo perché il provvedimento è un provvedimento molto importante che inverte una tendenza. Se fino a qualche tempo fa purtroppo l'abitudine era quella di mettere le mani nelle tasche degli italiani, oggi la tendenza si inverte perché finalmente si dà una mano agli italiani. E quindi c'è l'intervento sugli 80 euro con un impegno duplice che si è assunto il Governo in sede di discussione alla Camera che sarà quello di estendere questo intervento nel 2015 anche ad alcune categorie tipo i pensionati e non solo e sarà quello di rendere stabile con la legge di stabilità appunto l'intervento sugli 80 euro. Quindi si inverte la tendenza e segna un passo. Il passo è quello che il Governo lavorerà con grande determinazione grazie al contributo del Partito Democratico per ridurre le tasse sul lavoro in presa. Per rendere stabili queste misure occorreranno delle coperture piuttosto robuste? Le coperture il Governo le ha individuate rispondendo a quello che era un dibattito che stonava e che rischiava di portare il tema fuori dall'ordine del giorno e dall'ordine della discussione. Le coperture stanno in alcuni interventi che il Governo ha individuato perché ad esempio vi sono interventi di riorganizzazione della spesa pubblica, vi sono interventi che mirano a ridurre dei costi. Ad esempio nel decreto dell'IRPEF c'è un intervento di diverse migliaia di euro per la riduzione degli investimenti per il Ministero della Difesa. Vi sono anche altri interventi che riguardano tutti i ministeri che sono protagonisti nella funzionalità dell'apparato statale. Quindi vi sono interventi che vanno nella direzione giusta. Ne cito altri due, il primo è la famosa norma Olivetti che è quella volta di individuare un tetto per lo stipendio dei manager pubblici di 240.000 euro e l'altro intervento che va a portare un contributo utile alla discussione è quella della tassazione sulla rendita finanziaria che finalmente viene introdotta con efficacia e oggi anche se leggi si passa dal 20 al 26% della tassazione sulla rendita finanziaria. Ci sono anche delle norme che appunto intervengono sulla cosiddetta revisione della spesa pubblica? Sì, vi sono delle norme che intervengono sulla revisione della spesa pubblica vanno ad incidere su quelli che ancora risultano essere degli sprechi tanto a livello centrale quanto a livello periferico si prende le mosse da quello che fu il piano di Cottarelli ma come disse il Premier Renzi all'atto della presentazione del piano Cottarelli Cottarelli individuava le priorità ma poi le scelte toccava la politica farla e il Governo con la volontà di rimettere al centro la politica compie le scelte giuste che vanno nella direzione giusta che è quella di rispondere alle esigenze di cittadini e delle imprese quindi gli 80 euro per i cittadini ma c'è anche la riduzione dell'ira del 10% per le imprese quindi provvedimenti utili per il bene comune. La questione degli 80 euro è un modo anche per rilanciare i consumi come chiedono diverse associazioni come Confcommercio e Confedercenti? Certamente, io ho avuto modo di incontrare da quando questo provvedimento è entrato comunque in vigore dai primi di maggio diverse persone che ci hanno ringraziato ci hanno premiato perché riconoscono in questo intervento un intervento utile per rimettere in moto un po' i consumi e per dare ossigeno a tante famiglie che oggi purtroppo senza questo intervento avrebbero faticato ancora e tanto di più quindi bene, non era uno spot elettorale perché noi ci crediamo lo vogliamo rendere stabile questo intervento e lo renderemo stabile questo dimostra che non era un intervento finalizzato alle elezioni europee ma era un intervento finalizzato a rimettere in moto l'economia a rimettere in moto i consumi nel nostro paese perché o così riparte l'economia o altri metodi io non ne conosco in tutto questo ovviamente tenendo conto di quella che è la madre delle riforme che è la riforma costituzionale sulla quale noi vogliamo spingere l'acceleratore perché il dato dell'europeo ci dice che l'acceleratore lo dobbiamo spingere